Io sono Antonio Rigo, il vice direttore generale di ALIS, che è promotrice insieme a Verona Fiere della terza edizione di LetExpo, la fiera dello sviluppo sostenibile con un focus su trasporti, logistica, servizi, formazione e lavoro, quattrocento espositori, cinque padiglioni, casa ALIS, ALIS Hub, ALIS Academy Villa, Gialis Cafè, ALIS per il sociale, tutti insieme per sviluppare nuovi business, esplorare nuovi mercati e dare soprattutto nuove opportunità a tutti quei giovani, migliaia provenienti da tutta Italia, che desiderano trovare lavoro nel nostro settore. Una forte presenza istituzionale, ministri, viceministri, sottosegretari, tutta la politica si riunirà a Verona per ascoltare oltre trecentocinquanta relatori da tutta Europa che approfondiremo approfondiranno dei temi importantissimi eh la sostenibilità, il trasporto, la logistica, l'intermodalità, la formazione, il lavoro e soprattutto un'attenzione al sociale con personaggi importanti, tanti VIP che si riuniranno a Verona per sostenere associazioni, benefiche eh che fanno azioni a favore del prossimo eh tutti i giorni e poi anche la presenza dello Stato Maggiore della Difesa con un intero padiglione dedicato alle forze armate, a loro assetti logistici presenti a Verona anche quest'anno. Insomma un appuntamento che partirà il dodici marzo alle dieci e trenta, finirà il quindici marzo intorno all'ora di pranzo, vi aspettiamo veramente tutti numerosi per questa terza edizione di LeTexpo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.